Ciao a tutti, io sono Visto, Avvistato e sono ancora qua, sono sempre qua io, sono sempre qua io! Siamo in questo video per fare le differenze fra le canzoni trap senza autotune e con l'autotune, le canterò io. Ci saranno delle canzoni trap e poi vediamo se aggiungere qualcos'altro, magari ci saranno anche canzoni non trap, canz... Ma magari qualcosa di improvvisato, può essere, può essere. E mi raccomando lasciate 100 mi piace, sono pochi, 100 mi piace e almeno 30 commenti, ok? E almeno 30 commenti e almeno 1000 visualizzazioni, 500, 500 visualizzazioni, una visualizzazione, una visualizzazione però almeno 30 commenti e 100 mi piace per fare la versione voci dei cartoni animati con la versione autotune. Magari ci sarà un montaggio che realizzerò e farò una sorta di reaction con voi, ok? E partiamo con la prima canzone, dovrò leggere il testo, quindi guarderò lì, non guarderò qua in camera, ok? Dovrò fare la canzone Dende di Gali. Prima faccio la versione normale, cioè quella senza autotune. Fluttuo nell'aria, uh la la, di visto ce n'è uno sei mister satan, il tuo entourage frate in ramadan, sparisce abracadabra, pfff, alla casa, l'industria un tritacarne, io sono halal, il fluturbo fuoco scelgo charlisard. Ok, l'ho fatta in versione un po' modificata, ok? Sia di parole, sia di voce, ho stonato in un punto, e adesso lo facciamo con la versione autotune. Fluttuo nell'aria, uh la la, di Gali c'è uno sei mister satan, il tuo entourage frate in ramadan, sparisce abracadabra, pfff, alla casa, l'industria un tritacarne, io sono halal, il fluturbo fuoco scelgo charlisard. Ok, io lo sento direttamente perché c'è, nel senso col programma lo sento direttamente, quindi voi lo sentite come lo sto sentendo io in diretta. Mi piace molto la parte perché è più allungata come l'ho fatta io rispetto alla canzone originale, alcune le conosco, alcune le conosco di meno, non ascolto tanto il trap, però così in generale la facciamo lo stesso. Adesso facciamo cambiare adesso, questa è molto modificata. Versione normale di cambiare adesso della Dark Polo Gang Vogliono cambiarmi ma sono nato per questo, giovane re perché dovrei cambiare adesso, ho pagato caro il prezzo di questo successo, folettini e follettine ti tradiscono più spesso. Adesso la versione con l'autotune. Vogliono cambiarmi ma sono nato per questo, giovane re perché dovrei cambiare adesso, ho pagato caro il prezzo di questo successo, folettini e follettine ti tradiscono più spesso. Diciamo che il testo non è stato pensato per cantarlo respirando, è stato fatto abbastanza random. Passiamo con la canzone più attesa, no scherzo non è la canzone più attesa, con Happy Birthday di Sfera e Basta, non la conosco molto bene, ho sentito il ritornello per capire più o meno come funzionava, l'avevo già sentita un paio di volte tipo alla radio, in televisione, in alcune parti così a caso, quindi un pochino la so cantare, quella che conosco di meno credo fra tutti. Ti ho portato un pacco Happy Birthday, sono Goku, cerco la mia Kiki Love, oh my god quanto mangi, voglio un gattino che mangia i croccantini. Gatto vecchio Happy Birthday, è il mio compleanno tutti i giorni ma... Ok, questa è la versione normale, adesso la parte con l'autotune, vediamo come viene. Ti ho portato un pacco Happy Birthday, sono Goku, cerco la mia Kiki Love, oh my god quanto mangi, voglio un gattino che mangia i croccantini. Gatto vecchio Happy Birthday, è il mio compleanno tutti i giorni ma... Direi che la parte più allungata come l'ho realizzata, è molto più simpatica, almeno a me piace abbastanza. Siamo pronti, la versione Gali Ninna Nanna, ancora Gali, ritorna, ritorna Gali e sentiamo come viene. Versione norma... Versione no... Versione no... Versione no... Versione no... Versione normale. Wow wow mela, sono uscito dalla melma, da una stalla a una stella, compro lettiera a una gatta, e poi penserò alla Cina. Mangio pure questa mela, sembro un po' Cinderella, è senza senso ma più bella. Io sono fuori Brexit, flutto come un backflip, non sono un politico, io non cerco consensi, mangio ciò che pensi, terzo occhio tensing, in giro come gipsi, turista in mezzo al prezzo, il fine giustifica i mezzi. Adesso la versione autotunnata, vediamo. Wow wow mela, sono uscito dalla melma, da una stalla a una stella, compro lettiera a la gatta, E poi penserò alla Cina, mangio pure questa mela, sembro un po' Cinderella, è senza senso ma più bella. Io sono fuori Brexit, flutto come un backflip, non sono un politico, io non cerco consensi, faccio ciò che pensi, terzo occhio tensing, in giro come gipsi, turista in mezzo ai prezzi, fine giustifica i mezzi, giustili anche sui mezzi. Ma sinceramente quanto è venuta bene questa parte qua, allora dico la verità, se non ci fosse stata l'autotune veniva bene uguale, perché non ho stonato neanche una, neanche una, neanche una nota, ma mi rendete conto, ma sono stato super bravo, vediamo se stai registrando, perché magari... Avevo questa paura che non stava registrando, sia il microfono, sia questo, sia l'autotune. Siamo pronti, eh, siamo pronti per sentire Pablo, Disfera e Basta e tutti gli altri che ci sono, mi ricordo che c'è. Questa è la sua perché avevo fatto la parodia, mi ricordo, però mi è stata buttata giù per Strike, perché ho violato il copyright, vabbè. Avete sentito la vibrazione? Io sì. Trappando come Pablo, Pablo, porta la scodella al tablo, tablo, mi conosci, sono il diablo, uh, il diablo, no io con te noablo, noablo, e tu vuoi un vero topo, un sorcio, PL troppo gozzo, tozzo, io la sto cantando, ehi, sul mio divano tanquo, ehi. Adesso faremo la versione con l'autotune. Siete pronti per sentire la versione con l'autotune? Tra l'altro sentite come parlo e c'è anche l'autotune insieme, a me piace tantissimo sta cosa. Allora, siamo pronti. Trappando come Pablo, Pablo, porta la scodella al tablo, tablo, mi conosci, sono il diablo, il diablo, no io con te noablo, noablo. Se tu vuoi un vero topo, un sorcio, PL troppo gozzo, tozzo, me la sto cantando, ehi, sul mio divano tanquo, ehi, 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 andiamo sempre a esagerare, eh, andiamo sempre a esagerare in questi video, non ce la posso fare. Adesso, basta con le esenzioni, faremo una canzone, faremo la canzone di Titanic, My Heart Will Go On di Celine Dion, c'è una versione normale. Già mi verrà da schifo quella normale, chissà con l'autotune, fa ancora più schifo, vabbè, fa niente, proviamo. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on, tonato. Far across the distant, and spaces between us, you have come to show you, go on, near, far, wherever you are. Basta. Adesso facciamo la versione autotune, va. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Skippiamo. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door. Ok, questa, allora... Allora, questa versione, in realtà, se... 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 La parte con l'autotune la faccio più bella, ma forse perché sento l'autotune, dovrei registrare delle canzoni con l'autotune che io sento l'autotune, poi lo tolgo. E così sicuramente viene bene. Almeno, credo. Credo. Adesso proviamo a cantare la musica non c'è di... Eh, come si chiama? Coetz. Ok. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te, sei bella che la musica non c'è. Questa è la versione normale. Andiamo alla versione di autotune. Io immagino i vicini che mi sento cantare, ma io mi vergogno un pochino. Mi vergogno, va bene? Via con l'autotune. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te, sei bella che la musica non c'è. Ok, ci siamo, la parte blu è stata stranissima. Da risentire anche, è molto simpatica, è simpaticissima, simpaticissima. Adesso proviamo a fare una parte improvvisata solo autotune, ok? Sono visto avvistato, tu mi dici malato, sono il più ulotato, cerca nel mio canale, guarda pure cartellone. Questo è vero cartellone, veramente cartellone, dicono sei piccione. Prendo sempre la pentola, prendo sempre la schedula. Non so che cosa dire, non so che cosa fare, non so come rappare, non so come trappare. C'è la fotocamera proprio davanti a me. Tu mi dici tra me, tu mi dici me, te. Faccio queste rime, faccio queste rime. Basta, direi di finirla qua perché qua stanno troppo tempo, troppo tempo queste canzoni, ma... Allora, ha 30 commenti e 100 mi piace, quindi solo 100 mi piace e 30 commenti. Le visualizzazioni non sono importanti, facciamo in questo caso, ok? Farò le voci dei cartoni animati, può essere Disney, può essere Dragon Ball. Magari li rimetto sopra, metto io l'autotune e faccio la reaction per sentire come viene. Non so se lo farò, oppure farò io le voci, farò io le voci tipo Topolino. Ciao amici, benvenuti nella casa di Topolino. Tipo questo con la versione autotune. Però dirò altre parole, ovviamente, quindi sono abbastanza credibile a fare Topolino. Ciao amici, benvenuti nella casa di Topolino. Il video è finito, se ti è piaciuto lascia un mi piace, un commento, iscriviti al canale e condividi il video. Se sei arrivato fino a questo punto, mi raccom... Se sei arrivato fino a questo... Attendo, eh. Se sei arrivato fino a questo punto, devi scrivere canzoni trap visto avvistato challenge e riceverai un cuoricino. E se scrivi la prossima canzone o una canzone che ti piace di più per sentire trap, oppure scrivi una cosa non senso, le cose più non senso appariranno nel prossimo video, va bene? Va bene, va bene, va bene così. Ah, è vero, eh, signor Mario. Ma... Mario! Non mi sente. Mario! Ah, eh, puoi chiudere il video? Puoi... puoi chiudere il video per piacere? Ma... Signor Mario, perché sta gattonando? Cioè, il signor Mario che sta gattonando, non ci posso credere. L'audio funziona ancora, ma non ho ancora stoppato il video. Signor Mario... Signor Mario... Signor Mario, venga qua. Si alzi in piedi. Eh. Chiude il video per piacere. Chiude il video, dai. Chiude il video. Chiude il video. Dai, signor Mario, chiude il video. Chiude il video, signor Mario. Dai, Mario, signor Mario, chiude... Chiude il video. Signor Mario, chiude il video. Chiude il video, signor Mario. Signor Mario... Chiude il video, signor Mario. Signor Mario, oddio.